Salve a tutti, sono Nicola Cesari, sindaco di Sorumolo Mezzani, un comune nato recentemente da fusione. Uno dei primi atti che abbiamo voluto adottare in questo comune nuovo è stato proprio quello di aderire ad avviso pubblico, un atto di responsabilità da parte di un'amministrazione che vuole educare, istruire soprattutto le giovani generazioni, proprio come nella filosofia di avviso pubblico, a quelli che sono i messaggi e le azioni di legalità. Lo facciamo ogni giorno anche grazie all'impegno dell'assessore alla legalità Cristina Valenti e al presidio di legalità in cui il presidente Andrea Baga con noi e assieme a noi porta avanti questi messaggi e quindi ringraziamo tutta la comunità che segue anche le nostre iniziative. Grazie a tutti.